E' iniziata con una provocazione la settimana dedicata al secondo meeting europeo di Fridays for Future insieme a Climate Social Camp che quest'anno si tiene a Torino. Sono state due giovani attiviste di Extinction Rebellion a mettere in atto un blitz già alle 6.30 di stamattina. Imbragate assicurate sono salite sul balcone del palazzo della regione Piemonte in piazza Castello con una scala lunga almeno 10 metri e sulla balconata hanno appeso un grande striscione rosso con la scritta benvenuti nella crisi climatica. Le foto delle dichiarazioni sono state pubblicate sui loro profili social per comunicare al mondo il loro messaggio. Le due giovani che si sono incatenate al balcone hanno pubblicato i loro nomi Vic e Delfina. Quest'ultimo oltre a criticare l'insensibilità dimostrata dal mondo della politica, degli enti istituzionali, regione compresa, ha dichiarato Questa siccità è un effetto della crisi climatica ed ecologica causata dall'attività umana. La Giunta Cirio è attiva per adottare misure preventive e sistemiche per contrastarla rapidamente. E poi c'è l'invito finale che le ragazze hanno lanciato al mondo. Ricordatevi che è il momento di ribellarsi. Ma questa, come dicevamo, è anche la settimana organizzata da Fridays for Future a Torino. Sono passati quattro anni da quando nel 2018 a 16 anni una ragazza aveva deciso di saltare scuola per andare a sedersi davanti al Parlamento svedese con un cartello con su scritto Sciopero per il clima. Il suo nome è Greta Thunberg e quest'anno potrebbe essere l'ospite speciale della settimana dedicata alla crisi climatica proprio a Torino. Non sono stati ancora comunicati i dettagli, non si sa quando arriverà, come arriverà. Ma Greta Thunberg dovrebbe essere presente a Torino.